La Camera di Commercio di Asti ha reso noto ieri i vincitori del 39esimo concorso nazionale dei vini premio Dujador. C'era molta attesa per conoscere i vincitori dell'edizione 2011 che saranno premiati ufficialmente il 10 settembre nell'ambito del Salone Nazionale dei Vini Dujador. Ma vediamo le cantine del nord-ovest che hanno ottenuto il più ambito riconoscimento del concorso. L'Oscar della Dujador, sette sono astigiane, cinque cuneesi, una ligure ed una valdostana. Si tratta di Araldi Cavini di Castelboglione con il Gavi nuovo quadro, Walter Bera di Neviglie con il moscato su Reimond, Brandini di Lamorra con un Barolo 2007 Bio, Cantina Santevasio con una Barbera d'Asti superiore Nizza, Cantina Lune Bosoni di Orto Novo Spezia con il Colli di Luni, Vermentino etichetta nera, Casa Vinicola Marenco di Strevi con Brachetto d'Acqui Pineto, Caudrina di Castiglione Tinella con il moscato La Galeisa, Enrico Serafino di Canale con il loro ero Passiunà, Fratelli Gancia di Canelli con l'alta langa bianco QV36, Luca Ferraris di Castagnole Monferrato con un Ruchè, Istituto Agricolo Regionale di Aosta con un Valle d'Aosta 2009, Pescaia di Cisterna d'Asti con il Barbera d'Asti Solitaire, Azienda Agricola Poggio Ridente di Cocconato con un Barbera d'Asti superiore Bio, Vaudano Enrico di Cisterna d'Asti con il Roero Arneis Gaggie e Luigi Odero di Lamorra con un Barbera d'Alba. 2009, quest'anno al concorso Duyador hanno partecipato 389 cantine vinicole con ben 1000 e 21 vini provenienti da tutte le 21 regioni d'Italia. In totale i vini premiati, cioè quelli che hanno superato il punteggio di 85 centesimi, sono stati 501. Hanno invece superato la soglia di 90 centesimi 39 etichette, aggiudicandosi così l'Oscar della Duyador. Volendo stilare una classifica regionale dei premiati Duyador, il Piemonte è nettamente in testa con 481 etichette, seguita dal Veneto con 107 vini, dalla Lombardia con 93, quarta l'Emilia Romagna 34, a seguire la provincia di Bolzano con 33 vini, quindi Puglia con 30, Liguria 29, Sicilia e Campania con 25, Toscana 24, Sardegna con 20 vini presentati al concorso. I risultati sono soddisfacenti, oltre 1000 i vini presentati da produttori di tutte le regioni italiane, quindi una partecipazione massiccia come tutti gli anni, le commissioni hanno svolto molto bene il loro lavoro, sono risultati vincitori 501 vini, quindi un numero anche questo molto elevato che dimostra la qualità dei produttori, oltre naturalmente al funzionamento adeguato delle commissioni. Di questi 39 Oscar, cioè il meglio del meglio della viticoltura nazionale, sarà presente qui a Dasti dal 9 al 18 settembre con la manifestazione Duyador che quest'anno andrà all'enofila. Ieri sera a Costigliole Dasti ha preso il via la nuova edizione del Paglio dei Borghi, il torneo di calcio a sette rispolverato con successo nell'agosto dello scorso anno dopo 29 anni di interruzione. Prima del via agli incontri in comune si è discusso sulla carenza delle strutture sportive nell'Astigiano, come rilevato nell'ultima classifica stilata dal sole 24 ore. Sono intervenuti il presidente del CONI Piercarlo Molinaris con la fiduciaria locale Deborah Biglia, l'assessore regionale Giovanna Quaglia con la consigliera Rosanna Valle, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Michele Maggiora, il vicepresidente della provincia di Asti Giuseppe Cardona con l'assessore Fulvio Brusa, il presidente provinciale della FIGICI Piero Sodano. Naturalmente a riceverli il sindaco di Costigliole Giovanni Borriero ed il grande saggio del Paglio dei Borghi Guido Baldi. E proprio facendo leva sulla collaborazione del Comitato dei Saggi e sulla trasmissione alle giovani generazioni dei valori dello sport che l'Unione Sportiva Costigliole d'Asti conta di sviluppare l'aggregazione e di ottenere così nuove strutture per la pratica sportiva. I primi due incontri di ieri sera hanno visto il borgo Annunziata Sant'Anna, detentore del titolo, prevalere sul borgo Salerio per 5 a 2. Il borgo Boglietto Galletto ha invece sconfitto il borgo Centro per 9 a 2. In totale sono ben 11 i borghi partecipanti a questa edizione. Gli incontri si susseguiranno tutte le sere fino al 5 luglio. Il 7 luglio si disputeranno poi le semifinali ed il 9 la finalissima. Parallelamente alle squadre che si contendono il Paglio 2011 si svolge anche i borghi dei piccoli, torneo riservato alle categorie giovanili. Nel corso della giornata sono stati nominati due nuovi saggi del Paglio, Giovanni Gobbo per il borgo Salerio e Giovanni Rosso per il borgo Centro. Una maxi grigliata preparata dai volontari dell'Unione Sportiva Costigliole d'Asti ha concluso in allegria la prima serata del Paglio dei Borghi. E con questo da Asti è tutto, grazie per l'attenzione, restituiamo la linea allo studio.